Uh, che bello! Scommetti che è ketchup perfetto! Bomba ragazzi! Come avete visto nell'ultimo video, io e Paolo siamo stati in America, in Texas per la precisione, a incontrare il cast di The Boys. Bomba ragazzi! Bomba ragazzi! Tu no. Anzi, se vi siete persi il video, recuperatelo immediatamente. E siccome eravamo lì, ci siamo dentro. Ma perché non compriamo qualche bestemmia culinaria? Cioè quelle schifezze che hanno in America. Come sapete, come avete già visto, con Ambra abbiamo già fatto dei video dove abbiamo assaggiato cibi dal Giappone, cibi dall'Australia. Mi piace assaggiare bestemmie. Mmm, che lecornia! Con Paolo siamo andati a comprare queste cose. A un certo punto c'era questa, che sono cheese ravioli tomato marinara. Gli ho detto, guarda che queste cose le abbiamo comprate solo per fare uno scherzo. Non le mangeremo mai realmente. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale, condividetelo, così poi cliccate anche sulla campanella. Rimanete aggiornati sui video. Amore mio, da dove vogliamo cominciare? Abbiamo una parte dolce e una parte salata. Comincerei dal salato. Ok. Protein puffs. Brick oven pizza. Flavore. Ah, ma la pizza si coce a legna. Se tu all'americano gli dici forno a legna, lui fa un forno di legno e poi gli... Perché l'americano è stupido. Grazie Paolo. Non l'ho mai detto. Noi ci dissociamo. Mi dissocio. Tra l'altro sono proteici. 14 grammi di proteine. Sì, su 21 cos'è? E che cazzo... Sì, 14 grammi di proteine, 2 di carboidrati e 1 di zucchero. Zucco. Zucco. Il colore è come se avessi fatto un frullato di margherita. Annusa. C'è uno di mega pizza. Che pizza mangi? Mega pizza. Le espressioni sono in sincronia. La sensazione che ti dà è quella di non volerne mangiare mai più un altro. Nella seconda parte della masticazione è come se sentissi un concentrato di mozzarella salata. Molto salata. E poi si cementa tutto nei denti e resta lì. Praticamente è una sorta di roba che si comprime tutta. E resta lì. In un sassetto. Ok? Ho capito. Senti? Toc. Vicky si è sentito. Senti? Ho dovuto togliere dal dente. Che schifo. Io pensavo che fosse... Vai via. Proviamo una roba dolce? Sì. Io ho visto una cosa, ma la prendiamo dopo. Adesso vorrei andare su questo. Pistacchio Kernels on a Roaster. Io l'ho voluti prendere perché, come tutti sanno, io amo il pistacchio in maniera devastante. 35 grammi, 190 calorie. Tipico americano. Guarda, sembrano cacchette di... Ma questi non possono essere cattivi. Non sono cattivi, ma mi aspettavo di meglio. No, lasciano troppo retrogusto dolce. No, io li promuovo. Questo è bocciato da entrambi. Mettiamo qui quello bocciato da entrambi. Ambra promuove questi. Ok, io lo mettiamo dalla sua parte. Siamo 1 a 0 per lei, diciamo, no? Questa non è voi, lo stai inventando adesso. Che plot twist, abbiamo delle regole. C'è una regola. Allora, ognuno di voi due sarà costretto a mangiare una delle cose che ha bocciato scelta dall'avversario. Tutta? Tutta. Ok, un'altra cosa salata. Ti dirò, amore, questo l'ho preso... Per farti del male. No, perché ho letto che cos'era. Era... Formaggio e burro d'arachidi. Sai che questo l'ho preso io? C'è la cremina in mezzo. I crackers sono al formaggio, ma in mezzo c'è il burro d'arachidi. Così il tuo fegato... Sono buone o no? No, è una favola. Ma secondo me non è male. Non ha motivo di esistere. Io ho inventato un sandwich, l'ho chiamato il Midnight American Sandwich. Pane del sandwich, c'è burro d'arachidi, le tortiglie a chips al formaggio e il parmigiano. Via, no, neutro. Scelgo io? Vai. Questi che sembrano altre cose, schifosi. Allora, attenzione. Ah no, questa roba no. Hai scoperto il jolly, serve il tostapane, serve il tostapane. I Pop Tarts, ragazzi. Cosa hai scelto? Tu non sai cosa hai scelto, un classico. Fully baked o ready to eat. Li puoi anche mangiare così. Li puoi anche mangiare così. Permetti che io adesso li voglio fully baked. Or eat, or freeze, or snack. Eh? Allora, è magicamente comparso il tostapane di Prozis, che potete trovare su Prozis. col codice sconto MERLOTS10. Non c'è solo tanta roba bella, fantastica, ma anche roba utile. Tipo il tostapane. Io ho paura. Ma ci può andare questo coso nel tostapane? Ah, no, no, no. Look at this. Si chiude così. Proviamo così, guarda. Andremo a... Pistina. Ma in due secondi! Prozis, ma sei matto? Stoppalo, stoppalo. X. Cosa è un tovaglio? Toglio. Ah. Pippa. Ma non si è scaldato per niente. È tiepido. Sono due comunque, eh, ve lo dico. Due o poco. Sono me uno. Letteralmente, l'immagine è unicamente a scopo illustrativo, perché non è assolutamente così. Questi sono quei tipici video che poi gli americani vedranno e faranno le reaction a voi che fate la reaction. E diranno, ma come? Non capiscono niente. Ma che c'è dentro? Non l'ho capito. Oh, adesso c'è la spigna. Comunque questi carancioni e papà sono due. Quindi chi se lo accaparra questo? Sì, non fa schifo. Ma non sono... Tocca a me allora adesso scegliere. Che facciamo? Andiamo, torniamo sul salato. Sì. Ragazzi, mi approfitto. Prima vi ho detto che c'era il tostapane di Prozis, ma è una promozione, non è spam. Tra l'altro il termine spam, spammare, deriva proprio da questa carne. Lo sapevi? Sì, perché me l'hai detto innumerevoli volte. Certo, te l'ho spammato. Le tue unghie maledette. Mamma, meno male che non fai la proctologa. Spam! Allora, Ambra, visto che tu sei vegetariana, dopo che l'hai seggiata lo puoi sputare. E una volta che... Che cambia? Ambra, una volta che ce l'hai in bocca non lo sputa. Sappiate. Mi dissocio. Tieni. Perché sono un nomino dei Lego che li ti ho fatto in mano. Allora, aneddoto. Io da piccolo ho assaggiato veramente le pappe dei gatti perché dovevo sapere che sapevano. È esattamente questa. È pur vero però che lo spam non si mangia così. Si mette nell'insalata, si fa con la frittata. Quanta carne c'è in questo sale? 25% di sodio in meno. Cos'è, croccante quello normale? Il top della bestemmia, sai quale sarebbe? Farlo a pezzettini e usarlo al posto del guanciale nella carbonara. Uh, rischio. Mi è venuta la pelle d'orga. È vero. Se io fossi un gatto, voto 10. È come se fosse manzotin che però fa a cagare. Però la manzotin è buona, mi piace. Scarsamente accettabile. Te la prendi comunque dalla tutura, non la mettiamo neutra? È accettabile. Ok, quindi siamo di nuovo sul dolce. Allora, c'è una cosa dolce. Io ho voluto prendere tassativamente perché ho visto cos'era. Quindi è il momento. Vediamo se hai capito a cosa mi riferisco. Aspetta perché non ho idea di che cosa ho di fronte. Pensavo che fosse una cosa più scandalosa. Pistacchi ricoperti di cioccolata fondente. Ah, i pistacchi. Lo prenderò sempre, in qualunque sua forma. Ma dosca ragazzi. No, te li sto spostando. Sì. Carini. Vabbè, abbiamo già capito dove vanno a finire. Qui sta anche il cioccolato fondente ragazzi. Come un rasti trombone. Un che? Ah ok, lascio stare, va bene. Andiamo a... Mettitelo via di là, andiamo al prossimo. Prenderò quindi quello che era veramente interessante per me. Quindi questo. Anche per me, molto curioso. Mandorle al wasabi. Corso di apertura. Ah ma c'è una... Ho trovato. E chi la vede? Gli americani la vedono, potrai vedere anche tu. Certo, gli americani vedono il cibo e corrono. Non è un dado, Ambra. Sai quanto è uscita? Io so sempre facciare il primare. E' riscontro positivo perché è veramente wasabi. Magna. E' forte? Non la buttare sulla riguardo. Questa è la prova. Vabbè, abbiamo capito dove vanno a finire, ok? Allora, facciamo una cosa. Voi sapete che sta uscendo Sonic 2 al cinema. Quindi ho preso le ciambelline di Knuckles. Queste mi sa che sono buone. Donuts per finta, cioè il buco è solo all'inizio. Allora, al morso è buona, mentre mastichi ti rendi conto che l'impasto è... Degli americani. Mediocre. Sì, diciamo che dopo che ne hai mangiata una, l'altra non è che la vuoi mangiata per forza. Quindi senza infamia e senza lode. La salva molto il cioccolato fondenta sopra. Soprattutto se no ti tappa le vie aeree e muori. Le vie aeree? Che sei un boeing. Sì. Non direi che sono neutre, no, sono neutre. Ambra te la vuoi accaparrare? Vabbè ma tanto quella discarica qua accanto. Sei veramente ingorda, sei a quattro. Quattro contro due. Io sono di bocca buona. Infatti io che ho un gusto molto più sopraffino ho scelto lei. Lei che ha dei gusti molto più terratena ho scelto. Va bene, questa è l'accento. Notare che a te che non piace il dolce hai scelto due cose dolci. Non mi piace ma se mi piace mi ci innamoro. Ah vabbè. Quindi adesso tocca ad Ambra. Vorrei aprire questa. Ah, abbiamo delle gallette di riso, credo. Allora io sono molto fan del piccante e delle salse piccanti. Tra l'altro abbiamo qui delle gallette di mais di Parrozis. Sì perché dovete sapere che Parrozis quest'anno, 2022, compie 15 anni. Quindi utilizzando il codice sconto MERLUTS10 insieme a tutte le promozioni potrete avere dei vantaggi stratosferici. C'è un'iniziativa proprio in questi giorni per il compleanno di Parrozis. Il regalo, ragazzi. Il regalo bisogna fare il regalo. Qui dice imported from Mexico. Se on do me pizza. Ciò l'ula. Hot sauce. Io non posso mangiare piccante. Fare così. L'assaggio proprio una punta. Ok. Allora a me non è che non piace. Non lo posso mangiare per una cosa mi piace. Piccante. Da 1 a 10? Senza galletta sarebbe un sano 8, credo. Vabbè ma fai così col mignolo. Direi che deve stare qui. Questi. Cos'è? Cashew coconuts. Gli anacardi col cocco. Anacardi al cocco. Ebbè. Signorina. E questa è la prelibatezza. Non è che di squartare la salsa. Non distruggerli tutti tipo. Se fa schifo posso bere sempre a cannella la salsa. Vabbè anacardi al cocco cioè come può fare schifo. Buoni questi mi piacciono perché c'è l'anacardo, c'è il cocco sopra ma c'è una puntina di salato che quindi non te lo fa diventare un pappozzo dolce. No. Ok. Con cosa andiamo avanti? Tocca a me. Questi. Che sono? Ah microonde. Fagli vedere. Cheese, ravioli, tomato marinara. Questi sono quelli che quando siamo andati in cassa gli abbiamo detto questa in Italia è una bestefnia. E lui ha detto no, 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 no. Probabilmente per loro è cisma. I ravioli hanno la ricotta no? Ora chissà che ci hanno messo dentro gli americani. Maledetti boicotta. Salute. Esce il fumo dall'agustina. Si prende la tela. Che bello io non ho l'olfatto. Non sento niente. Uh, che bello. Scommetti che è ketchup. È vero che luce. Vabbè. Il tomato sauce è molto sospetto. Quell'odore di cartone bagnato. Ma tu non eri curato che non sentiva gli odori? Me lo metto qui nella narice. Beh, ho capito, sai, insomma lo metti naso. Sennò scorreggerai molto di più, scusa. Secondo me ti sta piacendo. Sì, vedo che mi piace. Indobbile poltiglia. Che non sia la descrizione più calzante che ho. Non fa male qui. Non fa male qui. Gli ingredienti sono indistinguibili. Cioè il cheese che c'è dentro, non si sa cos'è. Ma quale cheese? Cioè, evidente che non ci sia. Cheese-ia. Che non cheese-ia. Perché, sai, la scam, la povera carne va a consumare. Spam, che scam. Quello è uno scam. Era l'inconscio che diceva la verità. Ma lei è anche scelta. Ma perché mi dispiace per la carne, poverini, gli animali. Ma che animali? Ma non si sa neanche se siano animali là dentro. Che sono umani e impressi. Proviamo questi. Protein cookies. The smartest way to snack. Crispy and delicious. Sembrano biscotti con gocce di cioccolato normalissimi. Ma mai fidarsi. Donna, come li apri di mare? Comunque è vero. È un packaging orribile. Una parentesi. Di tutti i pacchetti che hai aperto, tu meriti un girone dell'inferno. Non esiste una persona che apre i pacchetti così male. Ma mai a cagare. Io li apro a te iera. Cosa che... Non lo chiuderai mai, quello. Io quando apro qualcosa, lo apro con l'intenzione di finirlo. Questo ha una goccia di cioccolato. Pure è opaca. Fallo vedere poi. Mangia tutto, è impressionante. Quello che metto in bocca è... Questo è doppio. Sì. Vai. Doppiato. Com'è? Mangialo. È che ho fissato qui. Oh. Banale. È troppo dolce. Non puoi fare una roba così. È più dolce del pop tart? Sì. Lui sente dolce anche quando c'è un chicco di zucchero, quindi non conta. Banale, ma mi sono stufata di accumulare roba. Non lo voglio. No. Ma io non c'erano poco. È da buttare? No. Sì. No, però... Prende il proteico. Dai, prendi. Vabbè. È rimasto soltanto il macaroni and cheese. Paolo sa benissimo quanto io per tutta la permanenza in Texas lo abbia evitato. Ah, ma l'ha fatto bollire e cucinare. Ma cucina, questo non potremmo farlo adesso. Però direi che se questo video piace, potremmo farne un prossimo con magari altri prodotti di qualche altro posto e cuciniamo i macaroni and cheese. Cioè, se il loro concetto di formaggio è questo, ripeto, virgola, vaffanculo, punto. Cosa abbiamo imparato da questa lezione? Che ambra è una fogna. Che a me piacciono i pistacchi. Cosa scegliete per far rimangiare ciascuno all'altro? È vero, tu mangerai la pasta. Sì, speravo quella. Che goduria. Va bene. Non vale. Ambra mangerà il cracker col burro da rachidi. Eh, lo sapevo. Certo, prima hai detto che è il peggiore. Pensavo che le patatine lì di pizza... Non la odio così tanto. Ok, ho capito. Cruncher, mi amore. Che schifo. Sei una bestia, una bestia. Che polpo. È sempre buonissimo questo anzo. Se questi crackers fossero stati fatti col burro da rachidi di Prozis, sarebbe stato completamente diverso. Ragazzi, se volete vedere altri video, facciamo come li fanno gli youtuber normali. Ragazzi, se arriviamo a 40.000 like... Facciamo 50 allora, dai. Se arriviamo a 50.000 like... Mi sento male a fare, a dirle. Mangiamo questo schifo immondo con altri cibi spazzatura. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo. Ma soprattutto seguitemi su tutti i miei social, ma soprattutto seguite lei su tutti i suoi social. Me li metto in grafica, me li metto u... E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Chi l'avrebbe mai detto che avrei detto la cosa che non sapevo che avrei detto proprio quando l'ho detta, eh? È fantastico! E pensa che su questo canale ci sono anche un sacco di altri video bellissimi dove dico cose che non avrei mai pensato di dire se non le avessi dette in quel video. Basta cliccare! Basta cliccare!